Ehi, sono io. A cosa dobbiamo la mobilitazione? Sembra che il nostro amico Schultz ci sia ricascato. Shocker, non l'avevano rilasciato sulla parola? Già, non puoi più fidarti di nessuno. Tranquilla, Herman è un pasticcino. Sarà di nuovo a Riker in tempo per la cena. Ho appena cenato con la mia ex dopo averla salvata da criminali in maschera e ora devo vedermela con un folle che usa le onde d'urto per le sue malefatte. Che vita straordinariamente normale che hai, Peter Parker. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A tutte le unità ha segnalato un spazio di droga in corso. Aggiornati alla caserma dei pompieri, rispondete! Spero che basta con i fenomeni da Jim. Ehi, Peter, solo una domanda. Le attrezzature che hai costruito per il tuo amico non sono rimaste in laboratorio, vero? Per me non è un problema, ma se il comitato dovesse tornare... Non si preoccupi, Doc. Sto sempre attento a non lasciare nulla in giro. Ma la ringrazio per l'interessamento a nome del mio amico. Ha già fin troppi nemici in città. Quel bufone di Jameson, il suo franco di Tecon. Ma per favore, chi amare a compiere grandi imprese non può accedere di fronte alla ragazza. E mi riferisco anche a noi. Parole sante, Doc. A presto. Vada a portarci da sotto! Mi hai stancato! Te ne pentirai! La mia droga è riempire di legnate gli spacciatori di droga. Un messaggio a Yuri e la polizia sarà qui. La mia droga è riempire di legnate gli spacciatori. Un messaggio a tutti. Un messaggio a tutti. Captiamo subito! Un messaggio a tutti! Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Sì, buona giornata. Grazie a tutti. Ciao, Erman. Sono serio? Arrenditi. Non mi prenderai mai? Questa l'ho già seguita. Non voglio ferirti. Non vorresti che rallentarmi. Beh, gentile da parte tua. A che ti servono i soldi? Che te ne importa? In effetti niente. Volevo solo fare conversazione. Volevo fare conversazione. Ho preso. Ora parliamo. Puoi dirmelo subito. Puoi dirmelo subito o aspettare che ti faccia sputare il nome a pugni. Scegli tu. via, via. Via! 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 Sireman, hai meno personalità di un cavo di rame Ma il tuo costume è spettacolare Mi daresti i dettagli tecnici Forse dopo Ottimo lavoro, Spider-Man Hai scoperto il suo movente? Ci ho provato, ma non è un tipo loquace In più credo mi detesti Non è l'unico in effetti Ma tu mi ami, vero Yuri? Ti tollero Wow, è la cosa più carina che tu mi abbia mai detto Ho qualche attimo libero Forse è il momento giusto per indagare sulla maschera Oh, MJ Ciao, MJ È ancora sveglia? Stavo guardando le ultime notizie Stanotte hai fatto Baldoria con Shocker, vedo Sì, era stranamente combattivo Comunque, grazie ancora per la cena Come posso sdebitarmi? Oh, ma lo c'è Hai ancora la maschera della galleria? Certo In effetti stavo andando al Fist Center per chiedere un parere a Martin Lee Martin Lee? Perché? È laureato in storia dell'arte Magari può dirmi qualcosa sulle origini della maschera Ok, tienimi aggiornata Ho l'impressione che ci sia qualcosa di grosso sotto E voglio essere io a raccontare questa storia Eh, d'accordo Quindi posso chiamarti... sempre? Certo, sempre e comunque Oh, quindi ci parliamo di nuovo Forte È quasi mattina Lee dovrebbe arrivare a breve Potrei fare uno spuntino Sì, è stato un po' Sì, è stato un po' A quest'ora il signor Lee è nel suo ufficio. Va tutto bene, ragazzi. Questo cretino pensa che andrà a vivere con mia figlia. Sarebbe splendido. Non me l'ha chiesto e non lo farà. Non vado da nessuna parte. Non puoi saperlo. Mai dire mai. Pensa a ciò che desideri e l'universo esaltirà la tua richiesta. Peter, serve aiuto? Scusi il disturbo, signor Lee. Una mia amica, Mary Jane, fa la giornalista. Sta scrivendo un articolo su degli oggetti d'arte e ha trovato questa maschera. Vorrebbe avere il parere di un esperto. E siccome so della sua laurea... Questa probabilmente è la prima volta che mi serve a qualcosa. Fammi vedere. Interessante. Dove l'hai trovata? Non so di preciso. Perché? Sa cos'è? La copia di un'antica maschera teatrale cinese. Non ne vedevo da anni. Questo simbolo si può tradurre con demone. Demone. Mio padre mi leggeva storie di fantasmi con questa maschera da bambino. Mi spaventava tanto. Peter, ascolta. Questa maschera... Può essere collegata a gente pericolosa. Mary Jane dovrebbe lasciar perdere. Pensa che sia in pericolo. Ah, non lo so. Ma perché rischiare? Ehi. Il simbolo nella maschera significa demone. Lee era terrorizzato. Non l'avevo mai visto così. Ti consiglia di lasciar perdere. Neanche per sogno. Tu credi che Martin ci nasconda qualcosa? No, ma sembrava come turbato da strani ricordi. A quanto ne so, ha avuto un'infanzia traumatica. Beh, può darsi. Demoni, eh? È un nome accattivante. Ok, mi metto a scrivere. A dopo. Beh, direi che non potevo sperare di meglio. Ehi, ragazzo. Come va con le robe scientifiche? Non male, grazie. Ho un momento libero prima di tornare da Doc. Posso dedicarmi ai doveri di Spidey qui in città? Non male, grazie a voi. Eccolo, grazie a voi. Eccolo, buona.